I finanzieri e il comando provinciale di Avellino hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di un commercialista. Contestualmente è stato eseguito anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del denaro ed altri beni e utilità fino a concorrenza dell'importo di oltre 100.000 euro. L'indagato professionista conosciuto nell'ambiente è ritenuto responsabile di plurime ipotesi di peculato e truffa aggravata dall'abuso delle pubbliche funzioni, svolte nel ruolo di curatore, custode giudiziario e molte procedure fallimentari ed esecutive pendenti dinanzi ai giudici avellinesi. Le indagini coordinate alla Procura e alla Repubblica sono scaturite da una segnalazione inoltrata nel luglio 2019 dal giudice fallimentare per presunte anomalie nei movimenti di prelievo dai conti correnti di una procedura fallimentare nella quale l'indagato rivestiva il ruolo di curatore. L'episodio portò all'emissione di un primo provvedimento restrittivo della libertà personale di sequestro dei beni nei confronti dell'indagato, seguito dalla sua sostituzione alle procedure fallimentari ed esecutive in quel momento presso il Tribunale di Avellino. Le successive indagini della Guardia di Finanza di Avellino hanno però consentito di delineare un contesto ben più grave e ripetuto nel tempo, con la ricostruzione di numerosissime operazioni di leciti prelevamenti di fondi dai conti correnti e le procedure giudiziarie nell'arco di oltre un decennio. Movimentazioni che l'indagato poneva in essere con svariate modalità realizzative, anche falsificando materialmente i provvedimenti autorizzativi dei giudici delle procedure, redigendo successivamente false rendicondazioni. Contestate anche ipotesi di creazione di falsi modelli F23. Nel complesso sono stati ricostruiti oltre 20 episodi di distrazione di somme appartenenti alle procedure fallimentari e custodie giudiziarie. Le indagini vedono coinvolti per singoli episodi anche altri due avvocati del Foro Avellinese e del Foro Romano, nonché in un caso due funzionari, il Comune di Mercogliano, cui è contestato in concorso con il principale indagato destinatario e la restrizione il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.